Con il Dipartimento Pari Opportunità Famiglia Valori Non Negoziabili siamo qui a Ciazza del Popolo oggi, abbiamo aderito all'appello lanciato da un cartello di associazioni per la libertà di pensiero e la libertà educativa. Stiamo protestando contro il disegno di legge Zanna che arriverà alla Camera martedì prossimo, un disegno di legge che a dispetto di quello che si racconta non vuole introdurre tutela antidiscriminatoria ma vuole invece introdurre un nuovo reato, un reato di opinione, quello di omotransfobia. Sostanzialmente si potrebbe incriminare successivamente tutti coloro che hanno un'opinione difforme rispetto al pensiero unico che si vuole imporre. Credo anche che le pene previste siano pene assolutamente eccessive come è eccessivo il fatto di introdurre un reato di opinione senza specificare un perimetro e quindi lasciando la massima libertà di discrezione all'organo giudicante, aprendo una strada che non si sa dove può arrivare. Inoltre in Italia esistono già strumenti giuridici che giustamente puniscono le violenze e puniscono le discriminazioni per orientamento sessuale. Noi non contestiamo questo, contestiamo questo disegno di legge che invece vuole introdurre iper-tutele e vuole sostanzialmente discriminare tutti coloro che non la pensano così.